Il percorso è un percorso che parte da ottobre, a ottobre ho pubblicato le linee guida delle politiche sociali in Abruzzo e sono arrivate e le abbiamo condivise veramente con tutti, tutti i territori, tutte le associazioni, chiunque poi poteva prendere anche dal sito internet le linee guida e abbiamo chiesto a tutti di dare un contributo di critiche, di contributo aggiuntivo, di idee, di fabbisogni. Sono arrivate 100 contributi da comuni, associazioni, enti, associazioni di categoria, sindacati, 100 contributi che io considero preziosi, che saranno la base del prossimo piano sociale. Dopo quest'operazione di ottobre abbiamo fatto il Social Lab, che è un forum sull'innovazione sociale e lavorativa e anche lì abbiamo attivato tavoli di concertazione, quindi anche dai tavoli di concertazione nati e conclusi il giorno del Social Lab abbiamo ricevuto molti contributi, quindi i contributi delle linee guida, sulle linee guida il contributo del Social Lab e partoriranno una bozza di piano sociale che andremo di nuovo a ridiscutere sui territori, perché faremo quattro incontri provinciali, uno per la provincia di Teramo, uno per Pescara, uno per Chieti e uno per l'Aquila, dove appunto con una bozza in mano di nuovo piano sociale andremo a discutere con i territori, quindi con le associazioni, con tutti coloro che vorranno ancora una volta contribuire alla co-costruzione del sociale in Abruzzo. Il piano sociale è un po' il piano regolatore delle politiche sociali e ha valenza per tre anni, quindi insomma è un piano regolatore importante.